Allora Isabella, oggi qual è il tuo desiderio? Beh, vorrei un nuovo look, ma soprattutto vorrei donare i miei capelli. Bene, allora oggi per te studieremo un look bellissimo e la cosa meravigliosa sarà questa tua donazione. Grazie. Grazie a tutti. Ecco, eccolo qua, il nuovo look. Allora Isabella, cosa dici del tuo nuovo look? Dico che mi hanno consigliato di venire qua e sono davvero felice di averlo fatto. È stato un passo importante, però ne sono molto contenta. Grazie. Bene, e io sono felicissima di aver saputo il tuo desiderio. Bella. Grazie. 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 Grazie per la visione!